La squadra volante della Questura, nella serata del 29 novembre, ha arrestato un cittadino italiano per il reato di resistenza a pubblico ufficiale. Nello specifico, la centrale operativa inviava gli equipaggi in corso Milano, poiché sul numero unico emergenza 112 in serata aggiungevano diverse segnalazioni di un ragazzo in evidente stato di agitazione che urlava ai passanti brandendo un coltello da cucina. Giunti sul posto gli agenti intercettavano... Cercalo in programmi!